Ciao a tutti, oggi lezione di letteratura. Parliamo di Giuseppe Parini. Giuseppe Parini è nato nel 1729 in provincia di Como. Ha poi vissuto a Milano dove ha studiato ed è diventato sacerdote. Per otto anni Parini è stato il precettore, cioè il maestro privato, dei figli dei duchi di Milano. Dopo otto anni è stato licenziato perché ha osato difendere la figlia del maestro di musica che era stata schiaffeggiata secondo lui ingiustamente dalla duchessa. Parini ha partecipato attivamente alla vita intellettuale della Milano Illuminista. Ricordiamo che proprio nel 1700 è nato e si è diffuso in Francia l'illuminismo. Le idee illuministiche di toleranza, libertà e uguaglianza si sono poi diffuse in tutta Europa. Parini è morto a Milano nel 1799. Parliamo delle sue opere. Le Odi raccolgono 25 componimenti di argomento sociale e morale e Il Giorno, forse la sua opera più famosa. Il Giorno è un poema satirico in endecasillabi sciolti in cui Parini finge di essere il precettore di un giovin signore. A questo giovin signore il precettore dà consigli su come condurre la sua vita. Che significa poema satirico in endecasillabi sciolti? Un poema innanzitutto è un lungo componimento poetico, quindi in versi. Satirico significa che l'obiettivo del componimento è prendere in giro qualcuno, in questo caso la nobiltà dell'epoca. Endecasillabi significa che i versi hanno 11 sillabe e sciolti significa che non hanno una rima fissa. Il poema è diviso in quattro parti, il mattino, il mezzogiorno, il vespro e la notte. Questa struttura suddivisa in quattro parti richiama la suddivisione del giorno che dà il nome al poema. Questo poema ha un tono ironico, abbiamo già detto, quindi tende a prendere in giro, ma è anche un tono indignato, indignato nei confronti dell'aristocrazia arrogante e crudele e che è indifferente alle sofferenze del popolo. Prendiamo in esame un brano, La Vergine Cuccia. Questo brano fa parte del poema satirico Il Giorno e più precisamente si trova nella parte intitolata Il Mezzogiorno. In questo brano si racconta di una dama che ricorda un episodio spiacevole, la sua adorata cagnolina ha morso un servo e quello le ha dato un calcio, l'ha allontanata con un calcio. A questo punto la dama, arrabbiata, caccia via il servo che sarà costretto a vivere per strada insieme alla sua povera famiglia. In questo brano si notano tutte le caratteristiche della poetica di Parini. Infatti il suo tono ironico e anche indignato contro i nobili che non si preoccupano dei servi riflette il pensiero e le idee illuministiche. Infatti Parini è arrabbiato con questi nobili che non si preoccupano dei servi ma che pensano solo alle frivolezze, cioè alle cose inutili. In questo caso la gentilezza della dama è rivolta solo alla cagnolina e non all'uomo, in questo caso il servo. Questo tema dunque è perfettamente in linea con le idee illuministiche del tempo. Spero sia stato tutto chiaro, grazie per l'attenzione e alla prossima volta.